buongiorno oggi sono qui per parlarvi della serie che sto guardando in questo periodo e ieri sera ho finito la prima stagione approfittando del fatto che pur non essendo una novità perché era stata data anni fa in televisione su mediset è stata recentemente caricata per intero su amazon prime video sto parlando di person of interest una serie che secondo me non ha avuto la giusta risonanza sia mediatica sia di pubblico e nonostante abbia un cast davvero stellare e una storia molto molto interessante allora partiamo dalla storia e l'idea di base è abbastanza semplice nel senso che siamo nel 2012 e il governo degli stati uniti ha creato una macchina in grado di spiare tutti i cittadini i privati cittadini americani attraverso le telecamere il gps del telefonino eccetera e elaborare poi questa massa di informazioni per creare due liste una di crimini cittadini rilevanti per il governo e per le nsi e quindi quelli che comportano atti di terrorismo mentre una seconda lista di casi cosiddetti non rilevanti che coinvolgono semplicemente dei privati cittadini però il creatore di questa di questa macchina il creatore informatico della macchina cioè Harold Finch capisce ben presto che tutti sono in qualche modo rilevanti per qualcuno e quindi decide di agire come salvando le persone che venivano indicate e che finivano nella lista dei non rilevanti e che quindi il governo non avrebbe aiutato per poter salvare queste persone però Harold ha bisogno di un socio perché diciamo non è propriamente prestante è più il tipo accademico professorale e quindi a ruola in qualche modo john che john reese che era un ex militare e addestrato dalla cia quindi il classico rambo è tutto azione diciamo è proprio per questo forse il personaggio di john non mi è piaciuto particolarmente perché l'ho trovato un po facile un po stereotipato tutta azione violenta il buono che arriva e stende tutti i cattivi invece il personaggio di di Harold mi è piaciuto particolarmente per sia per la prova attoriale di michael emerson sia proprio per la complessità del personaggio perché pian piano andremo anche a scoprire parti del passato di dei personaggi e quindi sia di john che di che di Harold e quindi pian piano creiamo una visione più complessa di quella immediata data dai singoli casi che vengono risolti di episodio in episodio perché in effetti diciamo la serie ha una struttura piuttosto episodica caso risoluzione caso risoluzione però ci sono appunto dei dei fili che collegano un episodio con l'altro proprio per questo motivo i primi i primi episodi sono forse un po non voglio dire noiosi ma forse un pochino lenti perché sono un'introduzione al mondo di person of interest a questo a questa new york iper controllata iper sorvegliata e quindi non c'è un granché di quella trama complessiva nei primi episodi che però andrà inspessendosi infittendosi sempre di più con l'andare della stagione e poi io mi ricordo le stagioni successive ma purtroppo appunto le ho viste un po a spizzichie bocconi quindi voglio recuperarmele in toto però appunto so che poi la situazione si va a complicare sempre di più rendendo gli episodi sempre più interessanti in totale sono cinque stagioni quindi 103 episodi dicevo il cast è stellare davvero ottimo perché appunto abbiamo già detto il personaggio di di Harold Finch è interpretato da Michael Emerson che forse il nome non dirà molto ai più però è l'insuperato benjamin linus di di lost il personaggio di john è invece interpretato da jim caviezel e appunto anche la sua complice forse la apparente piattezza del del personaggio anche la recitazione non mi è piaciuta tantissimo alla sceneggiatura abbiamo jonathan nolan quindi un grande nome conosciuto soprattutto per il cavaliere oscuro e poi il top dei top come produttore jj abrams quindi già il nome è una garanzia altri personaggi molto interessanti nella serie sono i due detective della polizia che spalleggiano i nostri due protagonisti i due detective sono fusco e la detective carter entrambi e lavorano all'omicidi e per tutta la prima stagione lavoreranno aiuteranno john e finch con informazioni aiuto strategico però la cosa particolare è che nessuno dei due saprà dell'altro fino alla fine della prima stagione e il personaggio di fusco soprattutto è davvero bello e ben costruito perché è molto complesso ci sono diversi elementi di chiaroscuro nel suo nel suo personaggio nel suo carattere quindi niente la serie mi è piaciuta molto c'è un finale davvero col botto col cliffhanger più totale che introduce un personaggio che sarà poi davvero eccellente e importante per lo sviluppo della serie e sono veramente ansiosa ora di andare avanti dato che è stata caricata appunto come ho detto per intero quindi le cinque stagioni complete su mi ricordo se l'ho detto su amazon prime video e niente vi rimando come al solito ai miei social di cui vi lascio i rimandi qua sotto in descrizione e alla recensione del libro molto lontano da casa a cui ho dato dieci punti su dieci sul blog e invece il video degli aggiornamenti di lettura che dovrebbe uscire o domani o al massimo dopo domani mattina quindi con questo vi saluto spero di essere riuscita a registrare perché già la terza volta che mi metto davanti alla fotocamera del cellulare e niente vi saluto e vi rimando ai prossimi appuntamenti attraversa a